Un nuovo attentato incendiario ai danni di un'auto è stato compiuto di notte a San Pietro Vernotico e questo nonostante il grosso dispiegamento di forze dell'ordine disposto dal questore di Brindisi Giampiero Lionetti che durante lo scorso fine settimana aveva guidato egli stesso gli agenti durante i controlli. Alle 3 della notte tra martedì e mercoledì una Fiat Grande Punto è andata in fiamme in via Vittorio Alfieri nel cuore di San Pietro Vernotico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area ma nulla hanno potuto per salvare la vettura. Sulla possibilità che il rogo sia di natura dolosa sembra ci siano pochi dubbi. Gli investigatori stanno accertando se l'attentato possa essere messo in relazione con quello compiuto l'8 luglio sempre a San Pietro Vernotico ai danni della componente di una famiglia perseguitata da oltre un anno dalla criminalità con attentati incendiari, dinamitardi, a colpi d'arma da fuoco e con aggressioni personali. E' probabile che la presenza di forze dell'ordine in paese, soprattutto nelle ore notturne, possa essere ulteriormente rinforzata in attesa che le indagini, tuttora in corso, mettano fine all'impressionante sequenza di attentati che hanno riportato San Pietro Vernotico al clima di paura che si respirava 30 anni addietro.